Questo non è un iPod, ma è un porta AirTag prodotto dall'azienda Elago che imita proprio le fattezze del famoso iPod Shuffle prodotto da Apple. Te lo ricordi? Beh, devo dire che è davvero ben realizzato. È in silicone alimentare per garantire l'uso di sostanze chimiche non tossiche, così da essere sicuro anche per bambini e animali. Dotato anche di un pratico moschettone, ti permette di agganciarlo su chiavi, zaini, borse o dovunque tu voglia. Si chiama V7 ed esiste anche in colorazione Tiffany. Ti piace? Segui Unbox Italia per scoprire altri fantastici accessori per i tuoi prodotti Apple.